Siamo qua con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, commenteremo l'esito delle elezioni. Sindaco ha vinto il centrodestra, a Gorizia come è andato rispetto agli altri capoluoghi di provincia? Innanzitutto un risultato certamente straordinario, è dal 2011 che il centrodestra non governava, oggi con questa forza nelle elezioni io penso che rassicuriamo sia l'Europa che i mercati. Gorizia è andato molto bene rispetto agli altri comuni capoluoghi, mi riferisco a Trieste, mi riferisco a Udine. Il centrodestra in Frivenenza Giulia ha un risultato migliore addirittura che quello nazionale e come capoluogo a Gorizia migliore rispetto a due importanti capoluoghi come Udine e Trieste. Siamo grossomodo al livello di Pordeone, perciò anche per quanto riguarda Forza Italia, perché io so dal suo sguardo che stavo per chiedermelo, riguardo a Forza Italia abbiamo visto che in ambito nazionale siamo sull'8%, in Frivenenza Giulia erano sempre inferiori al dato nazionale, paghiamo anche il fatto che non avevamo dei candidati che sarebbero stati eletti. Perciò un punto grossomodo inferiore al dato nazionale, direi che mentre una volta al di là del candidato vinceva la lista di Forza Italia, chiunque fosse candidato, oggi abbiamo visto che i candidati rappresentano davvero un valore aggiunto. Non per nulla due sindaci su quattro capoluoghi sono espressi da Forza Italia.